Lui prima di predicare le 70 settimane di Daniele, ha predicato sulle epoche della Chiesa, perché William Brown dice, prima dobbiamo risolvere il problema dell'epoca della Chiesa, dopo che avremo risolto il problema dell'epoca della Chiesa, dopo che risolviamo il problema delle 70 settimane di Daniele, prima di aprire le Sigi, perché se voi non riuscite a vedere l'epoca della Chiesa, e non vedete anche le 70 settimane di Daniele, William Brown dice che non potete capire anche i sigilli, perché i sigilli sono contenuti dell'epoca, perché lo credete? Perché sappiamo che il primo sigillo l'ha predo Paolo, quando Brown l'ha predicato in 63, quando Brown l'ha predicato in 63, si ha solo raccontato la storia di quello che Paolo aveva già fatto, solo contò la storia di quello che Paolo aveva già fatto, dunque bisogna capire che le epoche della Chiesa, che capire anche le 70 settimane di Daniele, e abbiamo visto che Daniele era preoccupato per suo corpo, e per questo che Dio ha mandato l'angelo Gabriele, e William Brown dice che l'angelo Gabriele è venuto a trovare Maria per annunciare la prima venuta, e l'angelo Gabriele deve annunciare anche la seconda venuta, dunque tutto deve essere in ordine, e William Brown ha predicato l'epoca della Chiesa, e ha preso le 70 settimane di Daniele, e iniziò a andare passo dopo passo, e l'angelo Gabriele ha detto sei proposti sono stati devolvendo al debito delle 70 settimane, e abbiamo studiato qui quando è che Israel ha cominciato la transgressione, e il secondo punto è di mettere fine al peccato, e il terzo punto è di spiegare l'iniquità, e quando siamo arrivati qui, abbiamo visto che il peccato è stato cominciato quando hanno richiestato a Gesù, quando hanno richiestato a Gesù come il Messia, e hanno detto a Gesù, e hanno detto a Gesù, hanno detto a Pilato, che il sangue di Gesù cade su di noi, che la sangue di Gesù venga su di noi, e sui nostri figli, e sui nostri figli, e realmente la sangue è caduto su di noi, perché Tito è venuto e ha distrutto il Popolo di Israel nel anno 70, Vino e destruyò il cuore di Israele nel anni 70 Peccano di tocare il sangue e calde su di noi al presente E sui, non sui figli E sui, non sui figli Vole dire che Hitler Mussolini Eshman Devono masacrare i hebrei nella seconda guerra mondiale Tienen que masacrare i hebrei nella seconda guerra mondiale Dunque quella parola che è stato pronunciato Nel lì Loro si erano proclamato la loro di esa condannazione Allora, qual peccato che è stato con me sucfrì? Quindi, il peccato che è stato con me sucfrì? Dio deve mettere fine a questo peccato E il peccato deve essere, la fine del peccato deve essere nel ultimo tre anni e mes Fin qui ci siamo Perché tutti tre anni e mezzo rimanevano per Israele Perché fino alla croce Fino che hanno ricettato Gesù E hanno consumato 69 anni e mes Havano consumito 69 anni e mes 69 anni e mes Rimanevano tre anni e mes Per Israele E in tre anni e mes E in tre anni e mes Dio deve essere nel sei proposti Dio deve essere nel sei proposti 5 e 6 anni E ma la Chiesa è già nella gloria E la Chiesa è già nella gloria E la Chiesa è nella gloria La Chiesa è già nella gloria Sulla terra c'è la grande tribulazione E la Tierra c'è la grande tribulazione E come Dio sa E come Dio sa Come l'ha dato detto l'altra volta Come lo dite l'altro dia Che è prima che inizia l'epoca della Chiesa Che è prima che inizia l'epoca della Chiesa Dio ha cominciato a fare già la torta e la esposa gentile E come Dio aveva già la fine dell'epoca di Gentile Perché nel 1906 Abbiamo detto qui che non è un risve Perché i pentecostali e il mondo religioso pensava che era un risve Ma il profeta con i sui occhi Però il profeta con i sui occhi Se vuoi avete letto l'opuscolo La amnesia spirituale Quando il profeta Amos Era arrivato in Samaria Chegò a Samaria Il mondo religioso veniva a un mondo bello La gente andava in chiesa La gente iba a la Chiesa Tutti avevano le vende Biblia e io busco di mano La domenica andavano in chiesa Cantavano Geova E i predicatori dell'epoca erano contenti perché i chiesi erano pieni Ma quando arriva il profeta Il profeta guarda tutto questo E dice che qua vedo solo maledizione e tutto qua Qualcuno l'ha letto Alguien l'ha letto Il profeta l'ha letto Il profeta lo ha detto E Amos ha visto altre cose E Amos vio altre cose E da la stessa cosa che Brannan ha visto E è lo stesso che Brannan vio Allora pensaron che il parlare lingua Il sello del rispetto Era la señal di un avivamento Brannan vio parlare lingua E dice che è Dio che Chiù dell'epoca gentile E dice che è Dio cerrando la edad gentile E sta parlando Israele E vedete che ieri il fratello Roberto mi faceva ascoltare un mensaggio E se voi notate e se voi seguite bene E se voi seguite En 1914 Dio ha iniziato un movimento sulla terra La prima guerra mondiale Giusto? E la prima guerra mondiale E Dio che si sta già preparando Israele Perché la prima guerra mondiale E la seconda guerra mondiale E la seconda guerra mondiale Non è un movimento per i gentili Ma è un movimento che deve prendere i hebrei Sino un movimento che deve prendere i hebrei E riportare sulla loro terra Para mandarlo di nuovo a su tierra Para che possano ricevere l'espiazione Anfi che possano mettere i figli al peccato E quando i hebrei ritornavano nella loro patria E quando i hebrei ritornavano nella loro patria E quando i hebrei ritornavano nella loro patria E quando i hanno fatto la domanda E quando i loro fanno la domanda Ma dove stai andando? E le preguntaron dove stai andando? La sola in palestina ci sono in palestinese E di dieron in palestina estamos palestinesi Que i vedete i hebrei Esos ancianos hebrei Ortodossi Ortodossi Le dijeron Noi siamo tornando per vedere il Messia E loro vogliono vedere il Messia E loro vogliono vedere il Messia Dunque Quando loro riconosceranno il Messia E quando loro riconoscono il Messia E allora Dio me trasfine al loro peccato Perché William Brannan dice che il peccato Perché William Brannan dice che il peccato Non è rubare Non è mentire Non è mentire Ma è incredulità Sino che è la incredulità E che ora E allora Quando voi siete increduli alla parola Ustedes sono increduli alla parola Automaticamente Avete peccato contro Dio E per questo ho sempre detto Por questo è che sempre dico Che la donna samaritana Che la donna samaritana Per avere il perdono dei suoi peccati Per ottenere perdono dei suoi peccati Non è che ha scrichato peterna Non è che ha gridato giorno e notte Non è che ha gridato giorno e notte No Ha solo ha riconosciuto a Gesù Cristo come il Messia Ha solamente riconosciuto a Gesù Cristo come il Messia Quando voi riconoscete Dio della vostra generazione Ustedes riconoscen a Dio in su generazione Dio vi perdono tutti i peccati Dio vi perdono tutti i peccati Perché tu sei un credente E credente per Dio non ha peccato E chiaro Dunque Israele deve riconoscere ora il Messia Voglio leggere qualcosa qui Prima di andare avanti Nell'opuscolo Apocalipsis capitolo 4 Secondo prima parte Nel mensale Apocalipsis 4 Bram dice questo Dal paragrafo 210 Ora nel vento testamento Ora nel vento testamento Era qualcosa che era chiamato congregazione Donde le persone si riunivano Per prima cosa Prima che entrassero La congregazione Per entrare là dentro Pia dove alla glucida Pianto per svare Nuori Devo no passare sotto il sangrio eaki Vessan Donde la Lluvenca Rosa veniva a uscire, la Vaca Roja venia a matare, e formava le Agro di separazione, e il pecatore che viene e ascoltava la parola, la Lluvenca Rosa, e il Monsignor aveva parlato dell'Antico Testamento, voglio leggere questo per attirare la vostra attenzione, perché il peccato deve essere trato, paragrafo 211, e con questo grande rabbino giudeo viene portato al Signore, mi avete sentito predicar il suo ciò, io in Arturza, e stato in Arturza, eravamo in Arturza in Oclau, e lui veniva solo come un observatore, e il rabbino era venuto per osservare, e dopo il servizio andò dice, e dopo il servizio fu e dice, io sono, io sei, nella traduzione corretta in inglese, al definire un capitolo, lo ho visto, lo vedo, come la donna samaritana ha detto, vedo che tu sei un profeta, come la donna samaritana ha detto, vedo che tu sei un profeta, dice, è uno dei sette eminenti rabbini al mondo, perché il messaggio dell'ora consiste a vedere qualcosa che Dio ha fatto, io credo che dovete allungare le porte, io credo che dovete allungare il capello, ma lo scopo vero, come la donna samaritana, ha riconosciuto Dio nella sua generazione, e questa è la cosa più importante, Dio non ha mandato un profeta per dirci quello che ci hanno già predicato per tanti anni, Dio non ha mandato un profeta per dirci quello che ci hanno già predicato per tanti anni, prima di Fratello Brano, come si chiama quel vecchio amico di Fratello Brano che era morto salutando i morti, Bosworth predicava alle due amiche, è vero, Bosworth è un grande predicatore, che erano Giacomo, che predicava la santità, che predicava la santità, a Susa Stritt, le pensano che erano riusciti a Susa Stritt, le pensano che erano riusciti a Susa Stritt, erano doni, sorelli e fratelli che si vestibano bene, erano hermanos e hermanas che si vestibano bene, dunque il messaggio della santità, era predicato prima di Fratello Brano, era predicato prima di Fratello Brano, dunque Dio non ha bisogno di mandare un profeta per ripetere la santificazione che è già, quindi Dio non ha bisogno di mandare un profeta per ripetere la santificazione che è già, ma Dio mandare un profeta, ma Dio mandare un profeta, per portare qualcosa per il suo popolo, e che hallo? e questo rabbino dopo il curto, dopo il servizio, andò dice, io sono, dice, è uno dei seti evidenti rabbini al mondo, dunque nella comunità hebrea dell'epoca, erano seti più grandi rabbini al mondo, che tutti i hebrei rispettavano, erano seti rabbini grandi in il mondo, che tutti i hebrei rispettavano, erano seti rabbini che andate a la riunione con il osservatore, erano dei seti più grandi al mondo, era uno dei seti più grandi in il mondo, vuole dire che qualcuno che i hebrei ascoltano, è uno che gli hebrei ascoltano, e dopo il servizio, andò e dice, io sono, è uno dei seti evidenti rabbini al mondo, e viene, e viene là, e dice, voglio vedere cosa quei uomini da fare cristiani, li chiamano pentecostali, voglio andare a vedere, e sentare, e ascoltare, e ascoltare, e ascoltare, dunque ha fatto una riunione di uomini da fare, e dice, gli ho avuto una riunione di uomini da fare, e dice, vanno a vedere un po' che cosa stai dicendo, voi ventecostali, voi vini da fare, ma niente a cambio peccasi, e quando il Signore mi fece parlare su sacrificio della gioveca rosa, dopo il servizio lui ha connesso di fratelli, dopo del culto lui si mirò con algunos hermanos allà atras e dice voglio incontrare qualcuno so che non ha ne la instruzione ma William Branham ha predicato sulla jovenca voce e il rapido dice voglio incontrare qualcuno so che non ha la instruzione dice io sono un rapido giudeo io sono un rapido giudeo che conosce tutti quei diversi approcci e cose del genere che conosce tutte queste cose e dice non l'ho mai visto in tutta la mia vita dice non l'ho mai visto se fai leggendo la traduzione inglesa e il rapido stava dicendo non l'ho mai capito come la pota con William a Mario Bran non l'ho mai capito come la pota e non l'ho mai capito come la pota con la tua verga rosa e la pota con Cristo e la trago e la trago a Cristo ha detto io non l'ho mai capito come la pota io non l'ho mai capito come la pota e ora è un rapido pentecostale e oggi è un rapido pentecostale ripito con lo Spirito Santo cheno con il Spirito Santo va da pecuto va por todo lato praticando il non l'ho mai capito predicando il non l'ho mai capito quel rapido dopo che ha incontrato fratello Brano questo rapido dopo che ha incontrato fratello Brano è stato baptizzato nel nome di Gesù Cristo ha ricevuto lo Spirito Santo e ora non predica più come la legge di Mosca ma sta l'ho mai capito ma che inizio a predicare a Cristo dunque quando lei andrà a parar questo e metter il rei non userà più il linguaggio del linguaggio non userà più il linguaggio che Brano ha mai messo nella bocca il linguaggio profetto e ora è un rabbino pentecostale e che ha capito che la cuneca rosa che il rei stanno aspettando l'autora e che ha disposto la croce di lui e la rifà e che ha disposto a battesare nel nome di Gesù Cristo e che ha disposto a battesare nel nome di Gesù Cristo ora il suo linguaggio cambia ora il linguaggio cambia e sapete che Israele sapete che Israele ha avuto solo la informazione del trattato del buque che Gesù Cristo vivia ancora che Gesù Cristo vivia ancora non è che Gesù Cristo ritornava il palestino non è che Gesù Cristo volviò ancora ma non è il suo fratello che è solo venuto a dire Israele Sino che sono i suoi fratelli che gli dicono a Israele Gesù Cristo è ancora vivo, Israele è stato vivo l'abbiamo visto in Egitto l'abbiamo visto in Egitto l'abbiamo diventato un grande uomo in Egitto e è stato un grande uomo in Egitto l'abbiamo diventato un grande uomo in Egitto il fratello Jaco e la signora lo conosceva e la hermana lo conosceva Rami dice abbiamo una bella stanza per lei ma dice non abbiamo una televisione non abbiamo una televisione lui dice quello sono infierno visione questa è un infierno visione buttatele fuori corretto non le voglio là dentro non le voglio là dentro comunque se si fosse là dentro te la farei buttare fuori lei disse e io dico lui disse sono un rabbino pentecostale alleluia ora scontrati il resto ora lui dice ora quando andrai in Israele quando andrai in Israele voglio venire conti dice possiamo portarlo a nostro popolo possiamo portarlo a nostro popolo possiamo portarlo a nostro popolo o de tu non no agravarti dice non agravarti non agravarti non agravarti non è ancora un tempo aspettate un poco perché io sei non deve andare non deve andare allà in un altro appistolo in otro mensaje William Branding dice ho comprato il dietro ho comprato il dietro ho comprato il passato sono arrivato al Cairo chequei al Cairo e lo Spirito Santo mi ha detestato in un tavo da Israele e il Spirito Santo mi ha detto che ho comprato il dietro ho preso una decisione affrettata per l'animazione tome una decisione appresurata per l'animazione José non tiene che regresar sono i suoi fratelli che devono venir che ho per vedere il Messia e il Messia che ha riconosciuto tramite il segno del Messia si riconosci a través della segnal del Messia e Pietro Pietro è andato a casa di Cornelio Pietro fu a casa di Cornelio perché Israel era la riquetta di Cristo perché Israel ha reposato a Cristo e come Cornelio è un gentile e così come Cornelio dì Cornelio pregava per avere Dio Cornelio orava per avere Dio Cornelio volendo a riuscigiarse di più a Dio Cornelio non potrebbe fare niente a Cornelio però Dio non potrebbe fare niente a Cornelio perché Dio non potrebbe dare la vita a Cornelio perché Dio non potrebbe dare la vita a Cornelio è il corpo che dà la vita la testa non dà la vita La testa non dava la vita, la parte che dava la vita è un corpo umano, la parte che dava la vita è un corpo, non mi alzer, non mi sulla testa, non sei se il materiale di stare un capetto, anche fisicamente non si, non è il corpo che dava la vita, e che cosa è successo? come Dio non poteva fare niente per Corneio come Dio non poteva fare niente per Corneio a Dio poteva mandare un membro del corpo a casa sua a Dio che Corneio poteva avere la vita per che Corneio abbia la vita la stessa cosa per lui che io e che allora ti ha iniziato l'epoca dei gentili e poi Jacopo lo dice e Jacopo dice Simón era a racontar Simón come Dio la prima volta come Dio ha visitato a gentili dios visito a gentili per che esi da cuore un popolo per suo nome per a escogere de ellos un popolo per suo nome e abbiamo capito che è la donna che poteva il nome del marito e entendiamo che è la donna che poteva il nome del marito versetto quinti con questo che ha fatto Pietro con questo che ha fatto Pietro se accuardano le parole dei profeti come scritto dopo queste cose dopo queste cose io ritornerò e rientificerò la casa di Davide e rientificerò la casa di Davide e costruirà il trono di Davide ma il figlio di Davide però il figlio di Davide ma il figlio di Davide ma il figlio di Davide ma per me è mio sposo però per me è mio sposo è mio marito ma per me è brei è il loro rei è il loro rei e noi siamo la reina e noi siamo la reina perché i fratelli di Giuseppe e voi lo dire e voi lo dire e voi lo dire ecco la moglie di nostro fratello all'està la esposa di nostro hermana e il stesso rispetto di Giuseppe e il stesso rispetto di Giuseppe il loro ha rispetto a lui i loro lo chiamano il moglie lo chiamano Sosnate la esposa lo chiamano Sassana e il fratelli lo chiamano Giovese e i loro lo chiamano Giovese è la mia persona e lui stesso che va è il stesso rispetto che quando il William a ringo bravo per questo è che quando William a ringo ha incontrato con il Ramino mi ha detto di Gesù Cristo che noi adoriamo è il dono dell'Antico Testamento che vogliono adorare anche in questo testo è il Dio dunque nel tre anni e mezzo dobbiamo mettere fino al peccato e espiar anche l'iniquità e che cosa è l'iniquità? che cosa è l'iniquità? William Brando dice sempre le sei punti nella visita di Gabriele nel paragrafo 86 per espiar l'iniquità iniquità è agire in modo malvato come esi pezzi a la croce come quando è che hanno comesso l'iniquità? quando è che hanno comesso l'iniquità? a la croce in la croce il peccato e l'iniquità hanno fatto tutto lì il peccato e l'iniquità si sono tutto lì e tutto l'iniquità che cosa è? e che è l'iniquità? come esi pezziare l'iniquità? è per espiar l'iniquità l'iniquità è agire in modo malvato l'iniquità è agire in modo malvato così come esi pezziare la croce così come esi pezziare la croce è compito le expiazioni è compito la expiazione però non si è applicato a loro però non si è applicato a loro Gesù è morto la croce Gesù è morto la croce Gesù è morto la croce ha fatto le expiazioni del peccato e sono andati avanti a uscire agnelli e agnelli e agnelli e continuano sacrificando porteros e agnelli ma il vero agnello di Dio è Gesù Cristo e William Fernandese che il demore riconosce il vero agnello e ha bisogno di riconosce il cordero vero e crea in il mezzo e riconosce il vero agnello e riconosce il vero agnello e riconosce il vero agnello il vero agnello che è di credere in qualche Gesù Cristo ha detto significa creer lo che Gesù Cristo ha detto quando Gesù Cristo quando il rabbino è andato a fare il battismo nel nome di Gesù Cristo quando il rabbino se bautizò nel nome di Gesù Cristo quale tiene che essere a creduto della expiazione è giusto dal qualche giorno in poi non andrà più a comprare l'allero non comprarà più la festa dove lo chiamano di Yom Kippu è una festa in hebreo per chiamano di peccato e creer sempre il perdone di peccato sapete che in Israele il sabato non si la usa il sabato non si deve fare niente il sabato non si deve fare niente fin di Yembe anche per entrare l'ascensore sabato anche per entrare l'ascensore sabato non devono tocare come la fare pequena di fare un lavoro non si deve tocare il lavoro perché è un lavoro l'ascensore tecnologico che la voce ha però vivono in il viello sistema e allora quel rabbino che ha riconosciuto che ha riconosciuto che ha riconosciuto il vero e che ha riconosciuto il messaggio di francese per entrare il messaggio del suo francese di Eom Kippu l'incensore l'incensore RAI l'incensore che in l'acc vergessen e Laut che ha fatto eviterato il messaggio il messaggio le��는 i ci i i e il peccato deve essere risolto nel tempo della fine il tempo della fine che cosa è? secondo William Mario Prana se riusciamo a trovare vediamo un po' di lente che cosa è? che cosa è? che è il tempo del fine? seguite con me un po' vediamo che cosa è il tempo del fine escuchenme lo che dice che è il tempo del fine che cosa è il tempo del fine che è il tempo del fine che è il punto di la visita di Gabriele nel paracolo 108 qual è il quale cosa è il fatto? che è quello che si è il fatto? per scegliere la visione e la profecia per scegliere la visione e la profecia Daniel ha profetizzato di tali cose Daniel profetizzò tali cose le aveva visto in una visione la vio in una visione il angelo seggio per scegliere la visione e la profecia e il angelo bajò per scegliere la visione e la profecia però per scegliere la visione e la profecia bisogna aspettare il tempo del fine se necessita esperar il tempo del fine qual è il tempo del fine? qual è il tempo del fine? la fine della settantissima settimana quindi è il fine della settantissima settimana perché di la settimana 70 sono solo 3 anni qual è il tempo della fine la fine della settantissima settimana dunque nella settantissima settimana il problema del peccato deve essere risolto e israel deve ricevere il suo messia israel deve ricevere il Messia il vero all'ietro il vero all'ietro noi non lo abbiamo israel non ha ricevuto il vero all'ietro ha ricevuto il vero all'ietro ha ricevuto il vero all'ietro quindi per avere il vero all'ietro israel deve venire a casa dei gentili israel deve venire in Egitto per venire a mangiare il grano perché è l'unico posto dove c'è il cibo qual è il tempo della fine la fine della settantissima settimana fin qui ci siamo ok ora andiamo a provare di nuovo ora andiamo a prendere ora comiamo di nuovo dove la parte pico dunque per espiar e iniquitar quindi iniquità e iniquità di essere un mondo malvelo come e si fance con la croce come e si fance con la croce come e si fance con la croce l'incompile la espiacione però però non fu applicata a loro Gesù era morto della cruz e il suo figlio di Dio fu asesinato così come il rabbino diceva fratello Brana come la regina di Saba il rabbino che Brana non sta incontrando sopra la montagna che vi all'esca il rabbino che Brana se ha parlato con Geren con quale autorità e aperto i occhi a John Ryan e Brana vi all'esca tramite la autorità del figlio di Dio il rabbino vi all'esca l'utile a Dio di avere un figlio Dio non ha figlio e Brana diceva fratello e Brana diceva fratello e il rabbino ha detto e Brana le ha detto e Isaia non ha parlato del Messias e Isaia non parlato del Messias e Brana diceva fratello qual è la relazione entre Messias e Dio? e Brana le digo qual è la relazione entre Messias e Dio? è una grande bomba non so se stanno presciando qual è la relazione tra il Messiasi e Dio il Messiasi e Dio il rabbino risponde il rabbino risponde il messiasi e Dio il Messiasi e Dio il rabbino il rabbino risponde e che cosa e in che il rabbino risponde il rabbino risponde e che cosa e che cosa e andato nel campi e andato nel grano e andato nel grano e andato nel grano e non è scritto nella lei di Mosè che è permesso di entrare nel campi che è permesso di entrare nel campi e come quando l'abbien situação ma non le metà ma non l'abbia ma non lo che non falle a pari non gli lasciano che quarters Sud e il rabbino le dice se i predicatori si i predicatori i parisi i saluceri del epoca di Gesù la persona ascoltata lo hubiesen escuchato no no saremmo questa condizione no estaríamos in questa condizione la reina del santo o che canto la traduzione in italiano o che ha aprendo la traduzione in italiano se i predicatori se caiava e i atri avendo lo accettato Cristo hubiesen acettato Cristo Tito no vendría a destruir i rambino adentro no saremmo in questa condizione il sacrificio è stato fatto ma non fu applicato a loro però non si abdicò a loro ma l'argo rinchietà perché lo rechazaron è incumplì la expiazione è incumplì la expiazione però non fu applicato a loro però non fu applicato a loro non le aveva ricordà non le aveva ricordà non le aveva ricordà non le aveva sido applicato a loro perché 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 era ricordato a loro perché erano ricordato a loro non poter non poter non poter non poter e perché dios lo ricordato a loro per che tu e io siamo i terribili di la sposa e per questo è che non abbiamo scusa e per quale motivo furono le sciechi e per quale motivo furono le sciechi bene, potete essere che oggi per quanto sono sciechi voi siete sciechi volontariamente la gente vea il ragazzo bravo con tutto il ragazzo fratello bravo non vengono mai un Messia e sperano a un altro Messia sperano a un Gesù non verà un altro Gesù non verà un altro Messia è finito l'epoca del Gesù la vita per l'entrata siamo solo tu a e testimoniano e quello che ti ha fatto quello che la gente aspetta non arrivere William Brown dice la prossima cosa la prossima è la bomba atòmica che passerà che la bomba è già pronta e la bomba è già pronta non è che la stanno facendo è già pronta non è che la stanno facendo non è che la stanno facendo e aspettare il momento giusto e aspettare il momento correcto per attivare il botone voi siete chequei volontariamente è sì pronti chequei perché Dio le aveva a checare ma voi lo siete a causa della vostra necessità volontaria ma voi lo siete a causa della vostra necessità ma voi lo siete a causa e aspettare il rapimento ma è spero un rato dovremmo volare e prendere il lato che deve essere volare per il lato William Brown dice il Paolo che ha detto che lo troveremo in l'aria è vero che dice che lo troveremo in l'aria e credite poi che Paolo era un profeta un profeta usa un linguale profetico la Biblia è scritta in paràbola la Biblia è un linguale profetico la Biblia è un linguale profetico e William Brown dice che per capire il linguale profetico che vuole la proposta se necessita di un altro profeta William Brown viene prendere il nostro nel l'aria ha detto che lo troveremo nel l'aria e dice lo troveremo nel l'aria lo troveremo nel l'aria lo troveremo nel l'aria virgola questo è il spazio che Dio ha disposto per la redenzione è volare il l'aria è il spazio che Dio ha disposto per la redenzione dove c'è il cadavere l'aria e il cadavere è il messaggio dell'aria l'aria 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 ha presso il saccaria l'aria 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 il titolo del paragrafo dice il rimanente rabbiduto si dirige verso la croce il rimanente rabbiduto si dirige verso la croce dunque dopo l'epoca dei gentili la rimanenza si dirige verso la croce vuole dire che i 144 mila riconosceranno Cristo e accetteranno la croce e accetteranno la croce per espiare l'iniquità iniquità è qualcosa che avete commesso di male di cui sapevate molto bene che non avreste dovuto farlo sapevano che Gesù è Messina sapevano che Gesù è Messina ma non sapete che voi sapevano che Gesù è Messina lo sapevano perché Nicodè era venuto di notte e ha detto noi sapevano che tu sei un dottore che tu sei un dottore nel libro di Giovanni se lo agiamo se sta nel libro di Giovanni e quando? non 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 sembra sembra Giovanni non 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 la risoluzione di Lazaro la risoluzione di Lazaro Matteo 26 Matteo 26 Matteo 26 ok, leggiamo qua a quelli che avevano amarestando Gesù lo condusero da caiafa somos a redote presso i quali erano riuniti gli iscriviti e gli anziani e Pietro lo seguì da lontano fino a che? fino al cortile del suo sacerdote e entrato dentro e entrato dentro se sentò con il suo sacerdote i 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 cercavano qualche testimonianza contro Gesù per farlo bene ma non ne trovavano alcuna sebbene se fossero fatti avanti molti falsi testimoni non ne trovavano ma alla fine vennero avanti due falsi testimoni e quali dicono? che dicono? che stia detto io posso distrugere il tempio di Dio e riconosurlo in tre giorni posso derribare il tempo del Templo di Dio e in tre giorni e in tre giorni verificarlo e in tre giorni verificandolo e in tre giorni verificandolo questo è un nome questo è vero allora è solo un sacerdote e in tre giorni verificandolo alzato se mi disse e in tre giorni verificandolo non risponde nulla non risponde nulla che cosa testimoniaron costoro contro di te che testificano essi come ti? ma Gesù tacet ma il suo sacerdote e in tre giorni verificandolo 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 io ti sconduro te sconduro per Dio vivente di 166 e Cristo il figlio di Dio e in tre giorni io ti diciamo che tutti i figli e in zona vedrete il figlio di uovo sentiate electione su condendenza e vedrete sul lume del cielo allora Quindi solo sacerdote rasgò i su vestiti, perché aveva terminato la edad di Aron, non potremmo avere solo sacerdote, 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 non potremmo avere solo sacerdote. Ok, prendiamo anche nel libro di Giovanni, nella Resoluzione di Lazzar. La 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 Resoluzione di Lazzar. Le lavendarli altro anno troppo. La Resoluzione di Lazzar. 6. e pensai che il solo uomo muera per il popolo e non tutta la nazione dunque in silenzio ogni tanto si riuniva per discutere di Gesù perché era una potenza era una bomba è un'altra riunione Nicodemo l'ha difeso e ha detto a Nicodemo anche tu sei diventato uno dei suoi credenti devi leggere la scrittura per vedere se un profeta esce di Nazareth qui questo rabbino che cosa stava dicendo a Fratello Brano se i preti dell'epoca l'hanno ascoltato a Gesù noi non saremo in questa condizione dunque che cosa deve succedere nel tempo della fine nel tempo della fine nel tempo della fine la iniquità interviene in questa condizione la iniquità si viene in questa condizione di riconoscere che il vero a quem è Gesù Cristo il portero dei gentili per avere il portero del loro devono venire in la parte dei gentili non si avano noi amare da loro e abbiamo lento qui che i hebrei che i hebrei non voleva la faccia di Gesù non voleva il rostro di Gesù voleva il senso del Messia perché hanno detto a Fratello Raffa noi sappiamo che Gesù ha provato che Gesù prometo che lui sarà di suo servizio se non lo vendiamo a che il senso del Messia noi crederemo dunque senso del Messia che l'ordore e l'ultima volta che la senso del Messia è venuto sulla terra è William Mario Braga non lo diluvi non ci sarà più come Billy Graham come lo diciamo come dice e allora Robert hanno a checcato la gente e l'ordore e l'ordore sa sapete come la mano a checcato sabe come poi che lo cegaron hanno tirato l'ordore su altro verso l'oriente che quando è Gesù dell'oriente ma Gesù ha cambiato forma però Gesù cambiò di forma perché abbiamo detto qui che la venita di Gesù che la venita di Gesù Gesù non ha mai Gesù che lui verà in oriente che vendrìa di nuovo al oriente ma che il servizio del movimento del sol non è così non è così come il sol è salti all'oriente così come il sol sale all'oriente tramata in l'Occidente se pone all'Occidente dunque se volete mentre la seconda se vuole la seconda vendita non guardate in l'Oriente ma guardate all'Occidente e l'Occidente quando vedrete il serio del fio del fuoco allora il Messia è una terra che quando il Messia è una terra quando il Messia è una terra e quando ha detto sempre con il Messia che ha dato la pervedere che fué allà per aver fué traito a Cristo è chiaro il movimento del sol il fratelli che non si chiama il movimento del sol il sol non trabote al oriente il sol non trabote il sol non se pone e il sol trabote in l'Occidente il sol se pone al oriente e dopo dopo fracallo grana non la credo più non la credo e mai più e mai più il senso del Messia 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 e leímos che l'unico momento appena i fratelli vedono che Israele è uscito in palestinese e dicono che Gesù vuole arrivare quando i fratelli vedono che Israele mata un palestinese dicono che Gesù vuole arrivare appena vedono che Gesù vuole arrivare che si parla di già terminò è già finita già si terminò Israele il calendario di Dio è già Israele l'orodio di Dio Israele l'orodio di Dio è stato l'orodio di Dio quando seguì il movimento degli rei ma più di 60 anni fanno c'è una luna terra e William Ragnan dice che la generazione che vede e ritorna non passera prima prima che Gesù che Gesù venga è chiaro è chiaro è chiaro dunque quindi voi dovete 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 e 144.000 quindi i 144.000 sono chiamati sono chiamati non perché perché devo andare a checar Brana dice, basta che un solo rabbino lo riconosca e inizia il caratteremo. Per spiare l'iniquità Iniquità è qualcosa che avete commesso di male di cui sapevate molto bene che non avreste dovuto fare se io conservisco l'iniquità nel mio cuore Se io ho ho d'iniquità nel mio cuore Dio non mi ascoltare Dio non mi ascoltare Dio non mi ascoltare No per loro calutare sapivano che chiuso era il Messia Sapivano che chiuso era il Messia Ma come non è giunto come L'abbè va a lo pensato loro Però come non vino la maniaca che loro lo pensano Lo me chassano Ma sono stati loro stess Però erano loro loro Quando all'igrei marzo di rinchi a allí Rosalea che avevo a Pilato dove avevo a Yahweh e predica tutto il che avevo e dicono che il Messia deve nascere ma Gesù non è nato a Bethlehem ma non l'hanno visto ma non l'ho vio ma come non l'entenduto però come non vino di la loro chiesa di la loro congregazione non le voglia non le voglia esa è la iniquità e questa iniquità deve essere roto al tempo della fine e sono i tre anni e mezzo e sono i tre anni e mezzo di la tribunazione poi parleremo quando termineremo i sei proposti parleremo di la grande tribunazione parleremo di la gran tribunazione e vediamo che cosa di Abraham dice che cosa è la grande tribunazione vediamo lo che William Brown dice che è la gran tribunazione la gente sta attraversando la tribunazione ora per avere l'Espirito Santo ora per avere l'Espirito Santo e il comitare a la mattina a la sede salta da la mattina al Espirito Santo e il Espirito Santo e il riconoscere e il riconoscere il mensaggio del lui e il mensaggio del lui il mensaggio del lui e il Messaggio del lui il Espiritu Santo è questo dunque in tre anni e medio parleremo anche di Gesù prossimamente prenderemo otterre la justicia eterna quando toccheremo la justicia eterna vedrete che che Dio ci aiuta a toccare che Dio ci aiuta a toccare e se toccheremo la justicia eterna quando toccheremo il punto della visione quando toccheremo anche benedifico del riuso traeremo anche per vedere che è il santo e introdurremo l'Ie e Mosè e introduceremo l'Ie e Mosè pareremo l'Ie e Mosè pareremo l'Ie e Mosè pareremo l'Ie e Mosè avararemo di la Gran Tribunazione e vi vedo apprenderemo l'Ie e Mosè e vi mostraremo l'Ie e Mosè come Brana mi adentro che Dio ci aiuto che Dio ci aiuto che Dio ci aiuto stanno in nostro corsaggio Brana lo dice tutto solo che ho in un tempo abbiamo preso l'Ie e Mosè Però oggi, attraverso la sua grazia, abbiamo visto il scritto in tebri blanco che Dias e Moisés già venivano. Il scritto in tebri blanco che Moisés già venivano. Lo dice il primo grande, lo tenemos e lo leeremo. Que Dio lo veniva.